Buon Natale, auguri a tutti. Buon Natale a tutti, mi raccomando, mi raccomando, auguro che è morito per strada, non ci possono toccare più le persone. Saluta tutti i tuoi amici che ti vedranno. Sì, sono invecchiato di morte. Non sei invecchiato. Dai un bacio a tutti i tuoi amici che ti vedranno qui. La voglia gli amici miei quando ne stanno. Cosa vuoi dire per questo Covid Nino? È brutto anno. È un brutto anno? Sì, sì. Cosa auguri per il prossimo anno? Lo sa Gesù. Lo sa Gesù. Gesù lo sa. Se vuole lui. Come sarà il prossimo anno secondo te? No, tanto bene. Ancora no? Tesoro mio, che cos'è che stai facendo? Dagli auguri a tutti. Tanti auguri a tutti quanti. tutti, 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 tutti. Non è da, non è da. Ecco tutto, i fiori là. Che cosa mi hai fatto vedere adesso?